Un inverno duro quell'anno non smetteva mai di nevicare. Sulla piazza i ragazzi stavano facendo un pupazzo di neve. La piazza era grande e c'era sempre un gran viavai. Le finestre di molti uffici davano sulla piazza ma questa non sembrava darsene pensiero. Proprio nel mezzo i ragazzi ridendo e schiamazzando creavano quel buffo personaggio fatto tutto di neve. Prima avevano fatto una gran palla, la pancia, poi una più piccola, le spalle e il torace. Poi una ancora più piccola, la testa. Avevano trovato dei pezzetti di carbone e ne avevano fatti tanti bottoncini perché il pupazzo potesse abbottonarsi il vestito di neve dal collo fino ai piedi. Al posto del naso c'era una barbabietola. Un pupazzo di neve insomma come ne nascono a migliaia ovunque ogni inverno se le nevicate sono abbondanti. I ragazzi si divertivano ed erano felici. La gente passava, osservava il pupazzo e proseguiva. Gli uffici funzionavano come se niente fosse. Il papà dei ragazzi era contento perché i figlioli giocavano all'aria, erano belli coloriti e avevano appetito. Ma una sera, quando tutti erano già rincasati, qualcuno bussò alla porta. Era il giornalaio del chiosco in piazza. Si scusò per essere venuto a disturbare a quell'ora, ma considerava suo dovere consultarsi con il padre dei ragazzi. I ragazzi, si sa, sono ancora piccoli, ma bisogna badare che crescano bene, se no sono guai. Ecco perché era venuto, per il bene dei ragazzi, per ragioni pedagogiche. I ragazzi avevano messo una barbabietola come il naso al loro pupazzo, un naso rosso. Anche lui, il giornalaio, aveva il naso rosso, dal freddo, mica perché beveva vodka. E non gli sembrava al padre che questa non era una buona ragione per burlarsi pubblicamente del suo naso rosso? Lui, il giornalaio, pregava quindi che la cosa non si ripetesse più. Così, per ragioni pedagogiche. Il papà era perplesso. Certamente i ragazzi non avrebbero dovuto prendersi gioco di una persona solo perché aveva il naso rosso. Ma i ragazzi erano piccoli e non capivano. Il padre li fece chiamare e chiese severamente, indicando il giornalaio, è vero che avete applicato un naso rosso al vostro pupazzo di neve solo per burlarvi di questo signore? I ragazzi restarono attoniti, non sapendo neppure di che si trattasse. Quando infine capirono, negarono recisamente. Tuttavia, e per ogni evenienza, il padre decise di punirli e di mandarli a letto senza cena. Il giornalaio ringraziò, si scusò ancora e se ne andò. Ma uscendo si imbatté nel presidente della cooperativa comunale. Questi salutò il padrone di casa che si sentiva lusingato di ospitare una persona così ragguardevole. Ma alla vista dei ragazzi il volto del presidente si rabbugliò. «Ah, sono loro!» disse con voce tonante. «Gli dovrebbe educare più severamente. Sono piccoli ma già sfacciati. Stamani guardavo la piazza dalla finestra della nostra cooperativa e che vedo? Questi ragazzini che come niente fosse fanno un pupazzo di neve. Ho capito. Si tratta del naso», avanzò il padre. «Il naso? Sarebbe niente. Si figuri che prima hanno fatto una palla, poi una seconda, poi una terza, poi hanno messo la seconda sulla prima e la terza sopra la seconda. Non le pare scandaloso?» Il padre era visibilmente perplesso, il che irritò maggiormente il presidente. «Possibile che non capisca! Ma se è chiaro come la luce del sole!» Mettendo una palla sopra l'altra, i ragazzi volevano dimostrare che nella cooperativa comunale i ladri stanno uno sopra l'altro. Eppure io posso assicurare che è una calunnia. Anche solo per fare affermazioni del genere sui giornali bisogna essere in possesso di documenti inconfutabili, figurarsi quel che ci vuole se si rendono di pubblico dominio mettendole in piazza. Tuttavia il presidente si dichiarava disposto a tener conto della giovane età e della poca esperienza dei ragazzi e a non pretendere rettifiche, purché la cosa non si ripetesse più. I ragazzi però negarono e si misero a piangere quando il padre chiese loro se mettendo una palla di neve sopra l'altra avessero effettivamente avuto l'intenzione di dimostrare che la cooperativa comunale era piena di ladri. Per ogni evenienza, quindi, il padre ordinò che andassero in castigo nell'angolo buio del corridoio. Ma quella strana giornata non era ancora finita. Dalla strada sudì uno scampanellare di slitte che cessò proprio davanti al portone. Due uomini bussarono contemporaneamente alla porta. Uno era un grassone sconosciuto, in pelliccia, l'altro il sindaco in persona. «Siamo qui a causa dei vostri ragazzi», dissero in coro. Il padre, abbezzo ormai a queste visite, li invitò a entrare. Il sindaco guardò sospettoso lo sconosciuto e disse «Mi dispiace che lei tolleri in casa sua simili azioni, dirette contro il potere popolare. Lei evidentemente non ha frequentato i corsi di preparazione politica, confessi». Il padre non capiva, proprio perché era politicamente impreparato. «Basta guardare i suoi ragazzi», gridò il sindaco. «Chi organizza manifestazioni satiriche contro il potere popolare? I suoi ragazzi! Hanno allestito questo pupazzo di neve proprio davanti alle finestre del mio ufficio». «Capisco», disse timido il padre. «Un ladro sopra l'altro». «I ladri? Sarebbe niente!» «Lei sa cosa vuol dire fare un pupazzo di neve davanti alle finestre del sindaco?» «Io so benissimo cosa si dice di me in giro». «Perché i suoi ragazzi non hanno fatto un pupazzo davanti alle finestre del cancelliere Adenauer?» «Mh? Che ne dice?» «Vede? Non sa cosa rispondere». «Il suo silenzio è quanto mai indicativo». «E io se borrone trarrò le debite conseguenze!» All'udire la parola conseguenze il grassone in pelliccia salzò di scatto e sbirciando in giro infilò la porta. Un attimo dopo si sentì lo scampanellare della slitta che presto saffievò lì allontanandosi. «Le consiglio di pensarci bene, mio caro!» continuò il sindaco. «E poi c'è un'altra cosa. Se io giro per casa sbottonato sono affari miei. I suoi ragazzi non hanno alcun diritto di prendermi in giro. Quella fila di bottoni sul pupazzo è ambigua. Io le ripeto. Se mi va cammino per casa addirittura senza pantaloni e i suoi ragazzi non hanno niente da ridire. Se lo metta bene in testa!» Il padre richiamò i ragazzi dal corridoio e chiese con severità se facendo il pupazzo di neve avessero avuto in mente il signor sindaco e chiese anche se tutti quei bottoni del pupazzo alludevano all'abitudine del sindaco di camminare sbottonato per casa. In tal caso il loro era uno scherzo di pessimo gusto. Piangendo e singliozzando i ragazzi assicurarono che avevano fatto il pupazzo soltanto per divertirsi, per gioco, senza secondi fini. Tuttavia il padre per ogni evenienza non solo li privò della cena e li mise in castigo ma ordinò anche che si mettessero in ginocchio sul pavimento. Ci furono ancora altre persone che bussarono alla porta quella sera ma il padre non aprì più. L'indomani passando nei pressi del giardinetto pubblico vidi i ragazzi. Ormai era vietato giocare in mezzo alla piazza. Ora discutevano quale gioco fare. Facciamo un altro pupazzo disse uno. Un pupazzo così semplice non mi interessa più rispose il secondo. Allora facciamone uno che somiglia al giornalaio con il naso rosso da ubriacone sentenziò il terzo. No io preferisco fare tutta la cooperativa comunale e io preferisco il sindaco e gli faremo un sacco di bottoni perché si possa abbottonare. i bambini discussero per un po'. Poi finalmente decisero di fare tutti i pupazzi uno dopo l'altro e si misero a lavorare di gran lena.